Francesco Totti, ex capitano della Roma, è al centro di un presunto scandalo che lo vede coinvolto con la giornalista sportiva Maria Luisa Iacobelli. La Iacobelli avrebbe confermato la frequentazione con una frase inequivocabile, mettendo in mezzo la sua attuale compagna Noemi Bocchi. Quest'ultima potrebbe subire lo stesso trattamento che anni fa ha colpito Ilari Blasi. Di fronte a queste voci Noemi Bocchi ha reagito sui social con una mossa a sorpresa, mentre alcuni utenti segnalano una fuga improvvisa di Totti e la compagna verso gli Stati Uniti, forse per sfuggire ai riflettori. Il settimanale gente ha lanciato la bomba pubblicando una foto di Totti e Giacobelli all'uscita di un hotel romano, con la giornalista che conferma il tradimento senza mezzi termini. Se confermato, sarebbe un duro colpo per Noemi Bocchi, che potrebbe essere tradita proprio come ha fatto con Ilari Blasi. Intanto, Noemi ha disattivato i commenti sui suoi post su Instagram per evitare offese o battute sulla situazione. Inoltre, sui social spuntano segnalazioni di un viaggio di Totti e Noemi all'aeroporto di Fiumicino con destinazione Miami per un torneo di padel. Tuttavia, potrebbe essere solo una scusa per allontanarsi in fretta e furia mentre il polverone si calma. Domani uscirà il servizio completo su gente e si prevedono ulteriori sviluppi. Restate sintonizzati per tutte le ultime news su questo presunto scandalo che sta a scuota.